Nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino si è tenuta questa mattina la cerimonia conclusiva della terza edizione del progetto Viaggio Libero, promosso dalla Commissione Consigliare Scuola in collaborazione con Graus Editore. L'iniziativa, che nasce per avvicinare i giovani alla lettura e al contatto diretto con gli autori, ha coinvolto gli studenti di 12 istituti superiori chiamati a reinterpretare un testo attraverso cortometraggi, recensioni, opere artistiche e teatrali. Con il sindaco Luigi De Magistris ed il presidente della Commissione Scuola Luigi Felaco, sono state premiate le scuole vincitrici del progetto e distribuiti libri di autori contemporanei a tutti gli studenti che hanno partecipato alla competizione. Il libro è un viaggio che rende liberi ed è molto bello avere ascoltato i ragazzi, le parole che hanno detto, l'importanza del libro nella capacità di aprire il cuore, provocare emozioni, mettersi in relazione con gli altri, la riscoperta della cultura come ragione di una vita. Questa è una città ricca di cultura, ricca di umanità, una città che vuole vivere con emozioni e che non si vuole far prendere da questo sentimento di paura, che è un po' come uno spettro comincia ad aleggiare sempre di più anche nel nostro paese. Si va lontano, si attraverso un libro, attraverso la musica si liberano talenti. Nella nostra città i talenti inespressi sono tanti e che nessuno ancora ha scoperto. Io credo che grazie a questa rinascita culturale napoletana tante persone stanno trovando una strada proprio grazie a un libro, grazie a una chitarra, grazie a un teatro, grazie anche all'arte di strada. Il viaggio libero è un viaggio attraverso le parole, finalmente i ragazzi si avvicinano alla lettura, creano una condivisione di queste parole, quindi leggono insieme, rielaborano e finalmente si mettono nei panni degli altri. Altre storie, storie diverse anche dalla propria ma che accompagnano in un vero e proprio viaggio. Questa è la bellezza di questo progetto che non solo avvicina alla lettura ma anche al confrontarsi con l'altro e a mettersi nei panni degli altri, cosa che raramente oggi succede soprattutto attraverso i mezzi social che guardano sempre a se stessi e mai alle vite degli altri.